Matteo Piano, la VNL è arrivata in Italia, che effetto ti fa essere a Milano? La VNL è arrivata a Milano, è arrivata nel Palalido e lo dicevo in questi giorni, ho detto che questa è una tappa bellissima di importanza che spero possa entrare nella storia di questo impianto, di questa città sono felice, sono un po' di parte, ma ci stanno, quindi sono di parte e dico che sono felice perché da milanese l'abbiamo aspettato tanto e sono felice di giocarci in azzurro con questo gruppo, con questi ragazzi, con tutte le persone che hanno la maglia azzurra in questo momento qui al Palalido perché è bello inaugurarlo così, quindi sono contento da Azzurro, sono contento da Power Volley Milano.